bello a tutti ragazzi bentornati nel dark channel, io sono Drac12c e benvenuti in questo nuovo video su questa nuova serie detta Cazzeggio su Saints Row in compagnia come al solito di... ok a posto, in compagnia come al solito di Bingo ecco adesso, oh il boccino, si io con lo sportello aperto, che ha avuto la macchina, stai ragionando la caccia la caccia, che cazzo sto dicendo, oh no, oddio, vai via, dove stai, ah, siete usciti eccola, ecco cosa dobbiamo usare come veicolo, oh questo mi stammenà, un po' più la mazza, dove stai qua, sali oh, forse motocicletta, yeee, ecco, guardatelo con la cappa no, non è la cappa però vabbè, intanto metto l'obiettivo fa tu, ce ne so eh, la bula eh, fallo recuperare buuuh ahahah un po' di strozzo merda, mi sono dimenticato di unirmi al tuo incarico e unisciti e me lo devi rimandare aspetta, sto uccidendo la polizia ahahahah eh no, torniamo in moto, dobbiamo farlo tutto in moto e dov'è la mo' ah, lì scontato, a metà prezzo sì, vabbè, ma stai, questa è una cioccolata che parla sempre aspetta, cambi un po' arma, scusi calma, e la polizia ci insegue ogni cacchio di volta cioè, come al sol, cioè, è normale questa cosa ooooh che c'è qua, sono incontro la la telecinesi sì, la telecinesi vai, tu, tu, non ti preoccupare, vado io sì, stiamo a posto tu, guida se non puoi capire la scena che sto guardando qui perché stanno sbandando ecco ah, ma siamo arrivati, io ci sto girando in tondo aspetta, secondo me ci conviene far fuori la polizia ma no fatto andiamo no, aspetta no, ho lisciato il coso riporti su poi mi lasci cadere dove stai? ah, ma qua dovevamo andare eh, dovevamo uscire la simulazione aspetta, ci stanno comunque stanno usciti alieni più forti eh, lo so, sono i cecchini degli alieni che è sto trip mentale? ma volano pure che cazzo di figata! come si spara? si vola! dove, come, 130 130 130 party garrix animals si vola! ok, e come si fa a fare danni? ah, così ma io pensavo sparasse anche io invece sembra una specie di gorilla messo male ah, però possiamo fare gli scatti ma che so sta roba? troviamo Matt che ti devo dire saluta Antonio dai vamos qui spacca tu 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 tuo tu 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 Come si scendeva? tu 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 t tu 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 Io ci siamo affatto oh yeah sesso robotico zdrow eh ah eh Ah dobbiamo salire Scappa per verso dove sto io Dove stai tu? Non li affrontare più di tanto C'è un'astronave Scappa! Vola 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 Ah ma è la nostra astronave Eh no! No! Sii Ce l'abbiamo fatta Lol Mamma mia quant'epico Questo gioco Ecco grazie mi hai lanciato una persona addosso Vai 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 Mi vado a schiattare Bam Eh mo E mo Muto devi stare mo Muto devi stare Shhh Muori Uuuu 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 Ragazzi li usa più le armi Bam Ah Qua si servono a ste pedane qua Mo L'altra volta Bam Dov'è lui? E' bellissima la pedata però Ah facciamo la sgara di pedate Bam BAM Cral volo è spiziosissimo Bam Uuuu Bam Uuuu Bam Uuuu 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 Bam E' morto? Uuuu Bam Uuuu Bam C'è nato più soldi per questo che per quello di me Ma infatti si Ragazzi per questo primo episodio di Cazzeggio su Saints Row Finisce qua Noi vi ricordiamo di mettere un bel pollicione in suuuu Di iscrivervi e commentare E noi ci vediamo in un prossimo video Arrrr Bella raga Passate in tutti i link in descrizione mi raccomando E questa ve la dedico a tutti quanti voi BAM